per il trattamento termico evitare la decalculazione dovrò proteggere le superfici non uso lincoln e fogli di acciaio ma uso il condus è un protettivo che resiste fino a 1100 gradi in forno si da sua bagno si presenta di colore verde dovrò dare una sola applicazione molti ne danno due ma sbagliando la ditta importatrice mi ha proprio specificato che anche la seconda applicazione rovinerebbe l'advisione della prima quindi una mano per immersione è più che sufficiente questo era un bussolato da due chili e mezzo ora per fortuna li fanno da da 09 visto che con questo bussolato qua c'erano temprato entrare per tipo una vita con dei dei lame iniziali lo sgrassati con di due tenitro antinebbia non altri solventi che creano problemi cuccio dentro nato scolare un po perché costa come il sangue sta roba qua e lo metto naturalmente cerco di toccare meno possibile con le mani i pezzi che ho sgrassato la casa produttrice naturalmente dice che è sufficiente pochissimo tempo per per la sudatura del materiale del prodotto io lo lascio almeno una notte 12 ore con gli eventuali goccioline che rimangono eventuali goccioline che rimangono non hanno sì un crano problemi faccio assorbire tutto il solvente completamente quindi io oggi lunedì do sul prodotto domani martedì segui dal trattamento termico i bilanciari che avevano sbagliato non li ho buttati via almeno uno lo tempo era uguale lo stesso trattamento termico lo userò come campioncino per testare preparerà di test perché non si finisce mai di di far test ora costruirò un supporto per il trattamento termico perché non voglio che dei miei componenti tocchino il fondo o le pareti del forno o altri supporti che potrebbero rovinare il trattamento termico quindi usando un filo per normalmente figura per la salatura a tigre quindi un acciaio inox però chiamiamola scultura faccio questo supporto mi considera di avere tutti i miei componenti 5 nel mio caso staccati dal fondo del forno mi consentirà di raccoglierli di informare nello stesso momento e di trarli fuori dal forno nello stesso istante e spegnerli insieme nell'olio questo perché in cinque parti dal primo al secondo aprendo diverse volte il forno potrei abbassare la temperatura anche di 5 10 gradi e quindi avrei trattamenti termici diversi eccoci qua dopo almeno 15 ore sono sicuro sento che siano asciutti anche se qui in punta si vede del materiale in più è passato almeno tempo che il solvente non ce n'è quindi problemi non ne vedo e non ne avrò sicuramente il condo salva infornato oltre i 600 gradi non prima per mantenere per poter mantenersi intero di un forno addirittura molto più alto sui 900 gradi per il k 110 tornandolo molto a temperatura alta riduco drasticamente il mantenimento in forno e ottengo un grano molto molto più sottile questo lo abbiamo verificato con trattandoli i provini con il nital e guardandoli al microscopio come si comporta il condus alla temperatura di tempra e diventa oleoso tipo non sono difficile da spiegare praticamente si uniforma si scioglie e copre uniformemente tutto tutto il metallo questo che la sostanza poi andrà via direttamente quando andiamo in spegnimento in olio o in piastre o quello che vogliamo anche in aria per il trattamento termico io utilizzo due forni elettrici industriali due per evitare i tempi morti tra tempi di raffreddamento per poter fare l'invenimento l'invenimento va fatto immediatamente dopo la tempra se lasciamo dose dice proprio che si si lascerà anche più di 5 6 ore un pezzo dopo la tempra prevenimento tanto vale buttar via la lama la trasformazione avviene continua a venire anche a temperatura ambiente per il kcd2 la trasformazione viene bloccata a meno 70 per questo io utilizzo questo frigo che mi sono autocostruito una cassa termica che contiene dell'alcol lo vedremo dopo in cui butterò dentro della neve carbonica vediamo dopo che è a temperatura di meno 80 quindi io lo spettivo spegnimento lo farò a meno 80 metterò un mantenimento di almeno mezz'ora a questa temperatura il trattamento lo farò a 1050 gradi per 10 minuti per questo tipo di spessore e spegnerò in olio in olio si spegne in tanto olio non in baschettine piccoline quello che uso per lavoro un bel posto d'olio ripeto a metà per quando faccio stampi per le mie lamette utilizzo comunque un bel secchio d'olio insomma uno dell'olio idraulico che è molto fluido ma mai dato problemi a volte utilizzo delle piastre in alluminio dipende sempre dal tipo di acciaio ora sono a 621 gradi quindi potrei già rifonare ma aspetto di andare a 900 ripeto austenizzazione a 1050 gradi sotto raffreddamento almeno 80 per mezz'ora e poi farò almeno un riboni un rinvenimento sulla seconda curva a 510 gradi acciaio che ho utilizzato è questo bellissimo k 110 della bowler un acciaio a mio avviso per mio parere eccezionale per lame di queste dimensioni e anche per un po più grandi all'1 55 di carbonio e un cromo 1130 diciamo che a 12 già la diventerebbe un acciaio inossidabile comunque molto cromo che mi interessa a farvi vedere è le curve di rinvenimento praticamente questo grafico indica ostinazione a 1030 gradi e a 1070 già con un'utilizzazione più alta abbiamo una seconda curva di rinvenimento vuol dire che se faccio un rinvenimento a diciamo 300 gradi avremo una durezza rockwell di 57 e mezzo 58 però se andiamo sopra il 500 ritorniamo sopra i 60 ora io l'ostellazione dai miei esperimenti la faccio una via di mezzo a 1050 e con un rinvenimento a 510 gradi ottengo comunque una buona seconda curva interessata di questo tipo di acciaio che ha di tipo led e buritico potete che nessuno dei carburi veramente duri e gli danno una elevata resistenza ad abrasione elevatissima e con alcuni accorgimenti ovvero possiamo ottenere una buona affinatura del grano e da qualità di taglio impressionanti veramente di si proprio difficile da riaffilare ma dato di taglio eccezionali e poi paragonabile lo sbarco il 21 quello che non è chiamato di due ma è non possiamo fare l'errore di considerare uguali anche perché le curve dell'invenimento sono decisamente diverse decisamente diversa anche le temperature di trattamento termico valgine di qualche di qualche grado è un ottimo acciaio per fare coltelli perché è stato usato tantissimo il d2 o il sbarco 21 è chiamato anche l'old favorite praticamente il coltello preferito di molti coltellinari americani che hanno avuto la prontezza di testarlo e scrivere e fare tabelle e quindi è un acciaio è uno forse l'acciaio di cui abbiamo più informazioni possibili io sono uno stampista quindi conosco bene questi tipi di acciaio perché sono usati anche nel mio mestiere ma c'è veramente tanta roba in questi tipi di acciaio che in altri per esempio non c'è non ci sono testi non c'è una storia bene arrivati a 900 gradi metti inserisco anche un pezzo di ferro per scaldare l'olio già è calato di 30 gradi mio forno abbastanza lento ci metterà quasi un'ora arrivare la temperatura di 1050 gradi e ci resterà per 10 minuti passati 10 minuti a permanenza spengo il forno una cosa tiro fuori un pezzo di ferro per scaldare l'olio e lo butto nell'olio nell'ospiratore e adesso prendo tutte le mie lame assieme le spiego tutte quante assieme nell'olio senza far toccare il borro del secchio questo momento sono tutte quante perfettamente spente allo stesso modo perfetto eccole qua già si può vedere come il nero di tebra classico non ci sia grazie al condus tutto questo alone scuro e sono i componenti chimici del condus che si sono fissati ma verrà via con una leggera carteggiatura li pulisco semplicemente con della segatura per togliere l'eccesso dell'olio ora la principale quella piccolina i vari bilancieri i vari bilancieri sono ancora molto caldi sono ancora caldi passo al mio frigo autocostruito metto una vasca dell'ikea di plastica ripita con alcol a 90 gradi di naturato con circa 7 cm di polistirolo quindi metto a mollo nell'alcol con la taglia passo all'anidride carbonica alla neve carbonica un sacchettino di tessuto non tessuto e uno proprio di CO2 con pescante cioè che pesca dal fondo il liquido lo tengo così una neve carbonica un piatto secco che è a meno 80 gradi e lo butto nell'alcol uso l'alcol perché non congelare se usarsi acqua congelarebbe a questa temperatura primo esperimenti li facevo con il diluente ma ci rimettevo il frigo ogni volta perché non voleva tutto ok come faccio a controllare la temperatura produco ancora neve carbonica affinché immergendo nell'alcol non rimane solida quindi ho un equilibrio termico che mi garantisce la temperatura quindi ho un po' di più tra l'altro da fare con i guardi per il cotopiatto funziona Grazie. Aggiungerò 3 precisi, sempre neve, per tutta la durata del trattamento, io chiamo criogenico, in realtà il criogenico sarebbe quello a meno di 200 gradi che si fa con l'azoto liquido, però sarebbe il top l'azoto liquido, ma è troppo costoso, è pur sempre un coltellino. Bene, prima di inserire il forno per l'invenimento, porto la temperatura al forno, e lo lascio in temperatura per un buon quarto d'ora prima di finire, in modo da stabilizzare la temperatura. Perfetto, farò due invenimenti da un'ora ciascuno a questa temperatura, ora le lambe bilanciali sono a 64-65 euro, dopo questo trattamento arriveranno a 60 più o meno, anche senza misurare, è abbastanza costante il procedimento su tutti i campioni che ho fatto. Passato il tempo, vado a spegnere i pezzi in acqua. Sembra follia, ma in realtà questo tipo di acciaio è un grosso problema, si chiama malattia di Krupp o infragilimento da rinvenimento. Praticamente il passaggio lento in una fascia di temperatura che è tra i 400 e i 500 gradi, non ricordo, può creare delle fratture o degli indebolimenti dell'acciaio. Quello che ho visto in passato, raffreddando velocemente in acqua, passo velocemente questa soglia e così non ho nessun problema per il rinvenimento, per la struttura dell'acciaio e riebito questa malattia. Bene, che puoi chiamare la malattia fa un po' ridere. È una cosa che non ho invitato niente, ho sempre copiato da grandi coltellinai americani che hanno dedicato la vita a temporale questo tipo di acciaio. Perfetto, ora si riducida a manina tutto quanto e alla fine si andrà a fare l'ultimissimo assemblaggio del coltello.